Lei è uno dei firmatari della richiesta di convocazione del Consiglio Comunale di Orta e di Atella per fare chiarezza su una serie di questioni. È stato posto l'accento ad esempio sulla presenza di strani personaggi, non si sa che titolo, assiduamente sul comune e sull'assunzione di alcuni ben undici ci risulta stagionali da parte della ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti. Perché questa iniziativa? L'iniziativa innanzitutto rigade nell'ambito del nostro impegno come consiglieri comunali all'interno del consenso civico ortese. Abbiamo deciso insieme agli amici di Città Visibile e insieme all'amico Vincenzo Gaudino che è stato così cortese da controfirmare insieme a noi le emozioni e le interpellanze e le interrogazioni di presentare alcune di queste istanze proprio perché vogliamo essere ligi al nostro dovere di oppositori all'attuale compagine amministrativa e chiarire alcuni punti che vanno chiariti. Per esempio, io spesso che sono un assiduo frequentatore della Casa Comunale perché è giusto che sia così, mi accorgo che puntualmente la stessa è piena di personaggi che niente hanno a che fare con la parte politica né con la parte amministrativa del Comune. Ma semplicemente perché sono personaggi, sono persone che in campagna elettorale hanno dato una mano magari alla maggioranza però ciò non giustifica la loro presenza negli uffici anche perché io sono stato praticamente testimone dell'imbarazzo degli impiegati comunali i quali letteralmente imbarazzati nel dover dare risposte ad un personaggio, ad una persona che ha delle persone che nulla hanno a che fare con l'amministrazione. Nella interrogazione non sono presenti i nomi, presumo saranno poi fatti in consiglio. Le faccio io un nome anche per la valenza politica diciamo politica, essendo il portavoce di Campania Libera. Il geometra Nicola Jovinella, che non si capisce bene, almeno finora non c'è una versione ufficiale la sua presenza assidua addirittura anche nell'ufficio tecnico, parliamo di un soggetto, un tecnico che insomma ha firmato di tutto e di più durante il boom edilizio. Rispetto a questo insomma lei che cosa chiede al sindaco, ai consiglieri di maggioranza? Beh noi ci poniamo questo interrogativo ma fermo restando che non abbiamo niente contro le persone perché non è la persona che ci interessa ci interessa il contenuto delle cose. Quindi vogliamo capire perché se il sindaco ci dice no, è una persona che mi sta coadiuando e che io ho praticamente così, gli ho messo la spalla sulla testa, la spalla sulla spalla e l'ho diciamo così portato a fare certe cose per noi va bene insomma, purché si renda pubblica questa cosa. Con un atto ufficiale anche? Con un atto ufficiale sicuramente hai parlato di nomi, noi non abbiamo fatto nomi semplicemente perché è una questione di correttezza ma non abbiamo nessun problema a dire chi è che non ci aggrada, ma ripeto non è che ci aggrada perché non ci aggradano le persone, non ci aggrada il sistema non ci piace. Noi abbiamo parlato di cambiamento durante questa campagna elettorale, la maggioranza che attualmente guida il comune ha parlato di innovazione, di cambiamento, ma questo cambiamento non lo vediamo. Giustamente lei dice imbarazzo per i dipendenti ma imbarazzo anche per i cittadini utenti che si regano al comune. Assolutamente, anche perché la mia parte politica me lo chiede e quelli che ci hanno votato hanno bisogno di sapere noi come ci muoviamo che cosa facciamo, se siamo attenti, se siamo ligi al controllo delle istituzioni e noi siamo persone che vogliono essere perfetti sotto questo punto di vista perché la perfezione delle istituzioni oggi come oggi, dopo un ventennio passato a torta di tutto e c'è bisogno di fare chiarizza definitivamente. Le chiedo sintesi estrema, vicenda stagionali? Vicenda stagionali è un'altra vicenda che praticamente ci riguarda da vicino, vogliamo anche in questo caso capire se le istituzioni come sono state fatte, con quali crispi, con quali criteri, con quale sistema, perché non voglio di Dio che ci accorgiamo che è semplicemente un sistema di do-to-des, non ci sta bene insomma, assolutamente. Quindi ci vengono a spiegare come sono state assunte queste persone e chi sono queste persone, in quale raggio girano, come vanno a collocarsi con gli attuali amministratori, eccetera, eccetera. Vogliamo capire questo? Semplicemente fare chiarezza.